non hai niente da fare compiti roba del genere me la posso tenere questa dalla me forza voglio che la si seduta per otto ore senza toccare niente senza fare chiasso non rido se mio marito avesse avuto solo un'idea di cosa avrei dovuto sopportare non credevo adoro quando lo chiami mio marito era mio marito si ma tu puoi uscire a trovarti in uno nuovo di marito quello era mio padre tanto che omariscio dirlo ogni tanto va bene ma ora non parliamo di lui perché per me è troppo triste troppo difficile troppo triste mi fa venire l'emigrania già lo so non mi dire non hai proprio alcuna compassione in realtà mi rompo perché sono già quello che farei prima che tu lo facci si certo che vai non ti credi? no non ti credo va bene scriverò quello che dirai mamma basta con i tuoi soliti giochetti Nati Natine congratulazioni dirò una cosa che tu non indovinerai tuo padre non sarebbe orgoglioso di ciò che sei diventata hai preso le chiavi Natine torna subito indietro Natine qui che sei diventata